Buonasera a tutti Ottoliner e ben ritrovati. Oggi siamo qui con il mitico generale Mini che tutti i Ottoliner conoscono, è un Ottoliner da sempre. Insieme a me intervista la nostra Clara, a me inseparabile. E col generale oggi vogliamo fare un discorso che riguarda un po' gli equilibri globali che stanno cambiando. Noi parliamo spesso di multiporalismo, di ascesa di nuovi attori globali. E ecco, la domanda che vorrei fare al generale riguarda proprio la strategia che gli Stati Uniti stanno adottando in questo cambiamento generale delle cose. Quindi si parla spesso ad esempio di svolta della Nato, una sorta di Nato globale. Questo lo abbiamo già visto negli incontri precedenti, quelli immediatamente successivi all'intervento russo in Ucraina, quando avevamo visto partecipare agli incontri della Nato anche i membri asiatici o del Pacifico, e quindi Australia, Giappone, Corea del Sud, alle riunioni. Questo poi è in parte in contraddizione con altre tendenze, come mi faceva notare Clara poco fa. Ad esempio la tendenza invece spormitensa è stromettere i francesi dall'area del Pacifico. Quindi le chiedo, generale, andiamo verso effettivamente una Nato globale, oppure questa è più diciamo una bolla del mainstream, una bolla della stampa? È una bolla, perché non ci sono proprio i presupposti perché ci sia un'alleanza militare di livello globale. Contro chi? Perché io capirei un'alleanza globale contro un'invasione dallo spazio, con quei bei film che ci fanno vedere spesso, che tutti i signori del mondo si riuniscono intorno a un tavolo e decidono quale strategia adottare per salvare il mondo da questi alieni. Qui alieni non ce ne sono, qui abbiamo tutti attori internazionali che sono più che conosciuti. Ognuno di questi ha una strategia che è chiarissima, ognuno di questi ha forze armate che sono altrettanto chiare, sia nella potenza, sia nella vulnerabilità. Quindi cosa vuol dire mettere insieme un'alleanza di carattere globale, oltre a una bolla di carattere mediatico, per far parlare un po' di sapientoni come me, è l'ora dare la possibilità a tutti di esprimersi. E c'è poi invece l'altro aspetto, che non è quello soltanto di fare del gran chiasso, è quello di cominciare a vedere quali possono essere i nuovi equilibri, non gli squilibri, ma i nuovi equilibri. E qui la strada è lunga, oltre che tormentata. Generale, invece per quanto riguarda la situazione, perché diciamo, l'impressione che abbiamo comunque è quella del riformarsi di un campo, di una sorta di nuova guerra fredda. Quindi ad esempio anche qui abbiamo visto le frequenti esercitazioni congiunte nell'oceano indiano, tra Iran, Russia e Cina, piuttosto che la Corea del Nord, che ha iniziato a fornire proiettili, armi, componenti molto importanti per l'industria militare, anche civile, ma in particolare abbiamo avuto notizie nel militare, tanto all'Iran quanto alla Russia, gli accordi in sbariati ambiti, anche agricolo, insomma, tra Venezuela e Iran sono noti a più, così come le collaborazioni appunto che la Bielorussia sta stringendo con questi paesi. Ecco, anche qui la retorica dell'asse del male, questo campismo tardivo, in qualche modo, questa lettura campista, cioè del mondo diviso in due blocchi, contrapposti, una nuova guerra fredda che arriva, da un lato ci sono i russi e i cinesi e i loro alleati minori, dall'altro c'è l'Occidente, quindi lei dice che non si sta formando la Nato, per quanto riguarda il blocco opposto, assistiamo invece a un qualche compattamento o anche lì si tratta di una bolla mediatica? No, anche lì, oltre a una bolla mediatica che è lo sfruttamento di qualche cosa, da quella parte si stanno invece verificando quali possono essere gli equilibri parziali, cioè non è quello di costituire un blocco, qui il blocco, un altro blocco, non lo vuole nessuno, la guerra fredda tra due blocchi, per adesso è soltanto un sogno degli americani che vorrebbero ricostituire anche il blocco che era quello sovietico, almeno idealmente, non è così, quella parte del mondo che abbiamo detto che essere fra virgolette alleati della Cina o dell'Iran, non è vero, non sono neanche loro alleati, quello che stanno facendo è mettono in evidenza che esistono anche loro, che esistono anche delle istanze che non sono quelle dei capi blocco. Io l'ho già detto qui a TV Ottolina che non mi piace il concetto della multipolarità, a me piace il concetto della multilateralità che è tutta un'altra cosa. e i paesi del sud del mondo, quando si sono riuniti e hanno cominciato a pensare anche di aderire in più ai famosi BRICS e ad altre iniziative, in realtà non vogliono un altro polo, non vogliono essi essere soggetti a un direttore del polo, no, vogliono ognuno di loro, vuole avere una parte commisurata alle aspettative, commisurate alle risorse, commisurate alle esigenze di carattere nazionale, di carattere politico e strategico. Quindi la guerra fredda, di cui si parla, ed è vero che si parla ancora di una guerra fredda, non è vista come un nuovo problema, come tornare al problema vecchio, ma come la soluzione di qualche cosa che non si riesce ancora a mettere insieme. Cioè tornare indietro per vedere se è possibile ristabilire quel rapporto bilaterale che era basato soltanto sul confronto della potenza militare. Non ci siamo, anche qui non è questo il caso. Il blocco che si va costituendo non è un blocco, è un insieme di paesi che hanno delle istanze e i potenti devono prenderne atto. Adesso io, è inutile che faccio sempre la solita tiritera e gli Stati Uniti, gli Stati Uniti. Certo, gli Stati Uniti sono in crisi, nessuno se ne rende conto di quanto siano in crisi, proprio perché gli accordi che hanno, e gli accordi di unione, di coesione, non funzionano. Prima, fra tutti, non funziona quello della Nato, insomma, se questi si sono ridotti a fare i piazzisti e andare, io non lo so, io non vorrei essere nei panni di Blinken o nei panni di qualcun altro di questi ministri degli esteri, devono essere giovani e molto forti perché il tran tran che fanno a porta di aerei, sfusi, controfusi, orari e no, mangiare il kosher oggi e dopo mattina la polenta con gli osei, insomma, non fa bene alla salute. Ci vuole uno stomaco e soprattutto ci vuole un cervello molto abile. E il cervello abile, secondo me, non ce l'hanno. Per cui pensare il nuovo come una rivisitazione del vecchio e come se il vecchio non fosse stata una guerra, ma fosse stato soltanto uno scherzo, cioè una cosa accademica, è un errore. Noi, durante quella guerra fredda, che doveva essere uno scherzo, abbiamo rischiato tre volte la guerra mondiale globale. Quindi non ci è sfuggita di mano sempre per dei casi, dei casi fortuiti. Oggi il caso fortuito è sempre meno probabile, perché qui i casi sono già costruiti. Adesso lo vediamo in Ucraina, ma lo vediamo anche in Israele. È costruito il caso. Il caso mai è già una pianificazione. Ed è una pianificazione, tutto è negativo, nel senso che è tutta con risolvere tutti i problemi con il potere militare o quel po' che è rimasto di potere militare. A proposito di guerra fredda, ad alimentare questo mito di guerra fredda c'è stata anche la dichiarazione, l'annuncio che è fatto dal Ministro della Difesa russo lunedì sulle esercitazioni nucleari, che è un po' con le armi non strategiche nel distretto militare sud, che ricordiamo è nei pressi, quindi è quello più vicino al confine con l'Ucraina. Il distretto militare sud, una volta, quando c'era l'Unione Sovietica, era Kiev. Cioè il comando era Kiev. Adesso tanto per dire come siamo combinati. Sì, sì, sì. Vado, vado, vado. Questo chiaramente evoca, addirittura ho letto delle analisi in cui veniva evocata una sorta di nuova crisi caraibica e queste sono discussioni che sono in questo momento all'ordine del giorno in Russia, tra i falchi che vorrebbero addirittura utilizzare il nucleare, invece le colombe, che temono soprattutto la postura della Cina, che considera un'opzione come inammissibile. da noi invece la deterrenza russa è considerata un blef. Ci sono stati pubblicati dalla Zafesova sulla stampa, ma da molti commentatori degli articoli in cui si diceva Putin tante altre volte ha annunciato, ha minacciato con il nucleare, ma poi linea rossa dopo linea rossa non ci sono mai state reazioni della Russia. Io credo che questa volta invece sia diverso. Vorrei chiederle un commento, se è possibile che ci sia una crisi nucleare, una crisi simile a quella missilistica del 62, eventualmente quale esito potrebbe avere, considerando anche che questa volta abbiamo delle armi tattiche che non hanno poi questo potenziale così distruttivo come le armi strategiche. Allora, parliamo appunto di due livelli di interventi nucleari, quelli di livello tattico e di livello strategico. Allora, l'accordo e la proibizione generale, e sono tutti d'accordo, di non andare a finire nell'escalation fino al livello strategico. C'è da parte di tutti, tutti se ne rendono conto che quella non è una via. Ma in tutti questi anni, durante la guerra fredda, ma anche dopo, con queste, fra virgolette, armi nucleari tattiche che sono di bassa potenza e anche bassi effetti di fallout e altre cose, ma sono mega distruttivi rispetto alle armi convenzionali. Bene, in questi anni noi abbiamo sdoganato l'idea che l'arma nucleare tattica si possa usare, utilizzare. Cioè, che è consentito? Che si può fare? Dipende dalle situazioni, dipende anche dalle volontà. E quindi l'intervento nucleare tattico non è detto che automaticamente inneschi quello strategico. Perché a livello strategico gli Stati Uniti, che sono i maggiori detentori insieme ai russi di quegli armamenti, non ci vogliono arrivare. I russi, come gli americani, non si possono permettere il lusso di avere nemmeno un missile intercontinentale balistico sulla testa. Nemmeno uno se ne possono permettere. Quindi non parliamo di 7.000 testate nucleari dalla parte e 7.000 testate nucleari di livello strategico dall'altro. E quella deterrenza nucleare strategico funziona. Perché se loro escludono questo intervento strategico significa che l'avere quelle armi e quelle armi equilibrate significa che funziona, non arriveranno le quelle. Il problema sono le armi nucleari tattiche. E le armi nucleari tattiche, quando noi parliamo di armi nucleari tattiche americane o inglesi o francesi che ne ho poco e parliamo di quelle russe, noi vediamo che le armi nucleari tattiche che sono dislocate in Europa da parte degli Stati Uniti insieme a quelle degli alleati che sono anche loro potenze nucleari sono a livello di centinaia, 200, 250, 260. Di questi sono i calcoli. La Russia ce n'ha 2.400. Quindi schierate pronte per l'impiego ed è un impiego che in Russia deve essere autorizzato dalla massima autorità che è appunto il governo. Negli Stati Uniti e così nell'ambito della Nato le armi nucleari tattiche fanno parte già adesso in tempo di pace dell'arsenale dell'arsenale militare convenzionale e speciale nucleare a disposizione del comandante di area che in pratica gli americani hanno con il comandante delle truppe militari delle truppe americane in Europa è lui il comandante e lui è l'autorità che può dare l'ordine di impiegare gli armi perché ce l'ha già nella sua disponibilità. Cosa vuol dire la sua disponibilità? Vuol dire che nel momento in cui hanno designato un comandante gli hanno fatto vedere un pezzo di carta e dice tu sei comandante dell'Europa bene allora guarda a tua disposizione ci sono 4 divisioni corazzate 3 divisioni meccanizzate 8 divisioni e 58 ordini nucleari tattici ci sono già ce l'ha quindi lui ovviamente prima di passare al nucleare già soltanto con il suono nucleare mi sembra assurdo che un comandante locale non interpelli prima tutta la scala gerarchica prima di impiegare quello che lui ha a disposizione ma teoricamente è già lì è già pronto e teoricamente ci sono le pianificazioni che prevedono già quella opzione di impiego quindi se durante la guerra fredda e proprio all'ultimo e anche poi dopo l'implosione dell'Unione Sovietica abbiamo sdoganato le armi nucleare tattiche come se fossero qualche cosa che comunque si stanno lì Zelensky e gli ucraini hanno hanno così diminuito il livello di pericolosità ma loro fa gioco non considerare l'arma nucleare tattica fa gioco dire che è tutto un blef perché così loro possono essere possono escludere dal come pericolo come rischio per gli europei il fatto nucleare che invece è quello che dovrebbe preoccupare di più perché noi a prescindere che non abbiamo gli uomini per mandare e per fare una guerra diretta contro la Russia cosa che non ce l'abbiamo ce l'avremo se vanno avanti così le pianificazioni ce l'avremo probabilmente tra 5 7 8 anni quindi quei 300.000 uomini pronti per intervenire oggi non ce l'abbiamo e quindi stiamo ragionando sul niente ma gli altri hanno queste armi e gli americani che hanno queste 50-60 già dislocate e già date nella disponibilità a un comandante strategico americano dove le lancia queste queste bombe in Europa e anche perché sono ordini che sparati con le artiglierie lanciati con i missili a breve e medio raggio oppure con i bombardieri a breve raggio sono hanno obiettivi in Europa non ce l'hanno in Giappone quindi questa 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 è la situazione noi stiamo prendendo veramente sotto gamba questa questa opzione che dal punto di vista tecnico operativo è già nella disponibilità è già contemplata ed è già pianificata non è pianificata invece non è pianificata invece l'impiego delle truppe terrestri cioè e questo sembra un paradosso noi scartiamo gli ordini nucleari tattici perché dice no è un blef e nel frattempo cerchiamo di avvalorare l'idea che un battaglione o una brigata francese possa andare a fare e portarci dietro tutti noi voglio dire è la rovescio la brigata francese e tutti noi non ci siamo non ci siamo ancora gli ordini nucleari tattici invece ci sono sì infatti infatti la questione è proprio questa che il campo di battaglia di una guerra nucleare con con armi tattiche non potrebbe che essere l'Europa chiaramente nel nostro emisfero perché la stessa situazione si verifica in Corea del Sud perché è Giappone perché dall'altra parte esiste anche un'altra specie di Nato che è quella famosa ANZUS e così via ma ma soprattutto esiste anche anche là esiste il comandante di teatro del Pacifico adesso si chiama Indo Pacifico che è che è autorizzato a usare ordini nucleari anche quindi sono due teatri ma nel nostro teatro per quello che ci riguarda per quello che ci riguarda noi siamo soltanto obiettivi noi siamo obiettivi sì questo praticamente mi sembra di capire che se dovesse essere utilizzata la tattica una tattica se dovesse essere utilizzate le tattiche in Europa non si arriverebbe all'apocalisse nucleare si arriverebbe alla totale distruzione dell'Europa certo certo assolutamente ma questa 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 è questa è la considerazione che fa ritenere molto probabile questo intervento non lo può escludere perché se gli Stati Uniti e la Russia dicono che i nostri rispettivi territori i nostri territori di influenza non vengono toccati perché al livello strategico non arriviamo tutto il resto è bassa macelleria quindi sostanzialmente sta dicendo che cade la deterrenza no no è caduta già la deterrenza allora siccome l'arma nucleare tattica è stata assimilata all'armamento convenzionale noi abbiamo assistito in Ucraina alla caduta completa della deterrenza convenzionale è proprio fallita non c'è la Russia se ne è fottuta fra virgolette e passatemi il termine da caserma se ne è fottuta del fatto che ci fossero delle armi convenzionali che potevano essere mandate dall'Europa o dagli Stati Uniti nel continente europeo no se ne è fregata ha dovuto ha fatto un'operazione probabilmente io sono convinto non era quella che si è prevista nel senso non è partita come un'operazione di invasione totale di arrivare tutte bagianate ma la potrebbe diventare e più più incominciamo a a ventilare delle ipotesi strane e più avvaloriamo la pianificazione o l'idea che si debba alzare il livello così è senta generale le faccio Clara posso subentro io una domanda vorrei fare una domanda per quanto riguarda invece la situazione in Medio Oriente perché a questo punto colgo l'occasione per creare un po' il quadro generale perché mi sembra di capire che anche lì si è parlato abbiamo visto sostanzialmente Israele agire nel tentativo continuo di alzare la tensione e quindi all'inizio hanno cominciato parlando di potremmo usare la bomba atomica è vero che l'ha detto un ministro secondario ma intanto l'hanno detto poi questo attacco imbarba tutte le regole internazionali la corte allaia è intervenuta addirittura hanno minacciato la corte la corte la settimana passata ha detto smettetela di minacciarci cioè parlando ai governi di Israele e Stati Uniti inizia una situazione quasi fuori controllo in più c'è stato il conflitto è stato portato in Libano è stato portato in Siria in Siria è stato tirato giù un edificio diplomatico iraniano sono state uccise figure importanti anche di collegamento tra l'Iran e Hezbollah quindi insomma uno degli asset principali della politica estera iraniana ecco la domanda che le voglio fare su quest'area diciamo come può avvenire fuori Israele anche in base insomma che idea si è fatto perché Israele in questo momento sembra un po' in un vicolo cieco anche questa azione a Rafa sembra tutto sommato che chiaramente nella sua tragicità e drammaticità per la popolazione locale però all'interno invece del contesto bellico sembra un'azione tiepida cioè sembra più che altro che Israele voglia conservare la minaccia di poter agire in qualsiasi momento quindi la domanda che le faccio è come possono venirne fuori perché a questo punto sembra veramente che la situazione sia persa allora come parto dalla considerazione che la reazione rispetto a quello che ci si aspettava o quella che poteva fare Israele è tiepida tra virgolette allora guardate che quello di presentare una cosa di fare una cosa dopo averla esagerata dopo averla esasperata e farla invece nella misura in cui è possibile fare senza far crollare tutto il quadro è proprio quello nel senso che Israele l'ha detto in mille salse invaderemo spaccheremo tutto e poi alla fine già prima non poteva farlo già prima non poteva ammazzare un milione e mezzo di persone impunemente poteva soltanto spingere premere su tutti primo perché la riforniscono lo riforniscono di armi ma soprattutto che si smuova il terreno soprattutto nei paesi arabi o altri altri paesi per deportare tutti i palestinesi da qualche parte quindi azione tiepida sì azione tiepida va bene ma perché 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 si vede che nel momento in cui fosse stata fatta un'azione come l'avevano minacciato sarebbe corrato molto del del sostegno sul quale fa affidamento Israele come ne esce Israele Israele ormai è condannata ad uscirne male perché da come come si è messa in moto è condannata a uscirne male cioè non può perdere dal punto di vista militare perché di fronte a un avversario che non è alla sua la sua la sua altezza non è inutile anche mettendo di mezzo l'Iran l'Iran stesso si rende conto che quello che può fare mandandomi Siliaga è quello che noi facciamo nei confronti dell'Ucrania gli mandiamo un po' di armi qualche cosa che possa fare perché possano resistere oppure per far finta che noi li sosteniamo questo è molto è molto è molto probabile ma ma di dietro non c'è Iran non c'è Stati Uniti non c'è Siria o Iraq che 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 decidano di fare una guerra regionale non la possono fare non 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 l'hanno neanche considerata e l'unica cosa che hanno considerato è che nella quale Israele c'è caduto è quella di dimostrare che Israele è una minaccia è una minaccia regionale una minaccia per tutte le regioni dell'Asia minore e dell'Europa quindi quindi ne esce male si potrà si potranno fermare i combattimenti sì va bene potranno fermare i combattimenti Hamas come rappresentante palestinese fra virgoletta aumenta e non diminuisce il proprio il proprio potere probabilmente verranno ci saranno delle concessioni da fare anche ai palestinesi o Hamas o qualche altro sotto qualche altra forma ma per adesso l'obiettivo principale di Israele che era quello di avere indietro gli ostaggi e di azzerare la parte militare di Hamas e di azzerare Hamas come parte politica non è caduta non c'è Israele sta trattando con Hamas dopo aver detto che è intrattabile dopo aver detto che non si può trattare con i terroristi che li uccideremo tutti li manderemo tutti in Namibia bene sta trattando deve trattare è quello che deve trattare Israele è il futuro non è la guerra immediata io l'ho già detto altre volte Israele adesso fa quello che deve fare ha tutto il mondo che nicchia non dice niente c'è un tribunale internazionale che vale quando il tuo di briscola che prende le istanze di un paese e di un altro ma non ha una capacità operativa per imporre niente a nessuno per cui una volta messa in discussione se c'è un genocidio o non c'è un genocidio se la vedranno gli avvocati è la situazione identica a quella ucraina russa c'è un c'è stato un eccidio un genocidio se la vedranno gli avvocati c'è stata l'aggressione se la vedranno gli avvocati internazionalisti c'è stato queste la vedranno dopo ma dopo dal punto di vista materiale questo milione e mezzo di persone quelle che rimarranno di questi milioni erano due milioni adesso saranno sempre di meno dove devono andare cosa devono fare Israele non vuole la soluzione dei due stati ma non vuole neanche nessun'altra soluzione quindi Israele è votato a perdere dal punto di vista politico strategico dovrà a un certo punto rendersi conto che deve convivere con un vicino adesso convivere con un vicino bellicoso oppure un pacifico sta proprio a Israele deciderlo allora io le faccio l'ultima domanda per avere un quadro diciamo generale e una prospettiva nel futuro in questo momento abbiamo due fronti caldi che è quello sul Mar Nero quello sul Mediterraneo orientale Mar Rosso e poi abbiamo un fronte che sicuramente si aprirà nel futuro che insomma è Taiwan secondo lei qual è il rischio concreto di questa unificazione dei fronti che guardando bene sulla cartina geografica non sono poi neanche così tanto lontani non guardate le cartine geografiche queste non sono guerre da mappa anche perché le mappe poi falsano le distanze ma qui sono guerre non geograficamente connesse ma sono guerre strategicamente connesse quindi la distanza poi non ha senso per un missile intercontinentale balistico a 11.000 km digitata insomma da Pyongyang può arrivare dappertutto non è la distanza e non è il fatto visivo così come non è quello che sento dire che è tornato l'arco dell'instabilità allora si fanno questi archi queste mezzelune di instabilità sono sono tutti dei piccoli sistemi per cercare di capire ma soprattutto nascondono l'idea di minimizzare cioè di far sentire lì la crisi è fuori il niente è alla rovescio noi la crisi la stiamo vivendo a livello globale e lì ci sono due o tre cose che possono essere anche risolte ma la crisi globale non si risolve con quei due conflitti e neanche con quelli in Europa e neanche con quello di Taiwan il dopo l'equilibrio o lo squilibrio successivo a queste guerre non è ancora stato definito nessuno si rende ancora conto i cinesi non se ne rendono conto gli europei lo stesso gli americani meno che mai perché quelli arrivano sempre dopo 20-30 anni a capire abbiamo sbagliato ma è così il dopo dell'ambito mondiale la Cina ve l'assicuro io sono convinto non è che dico le cose tanto sono convinto perché ho non solo sensazioni o informazioni ho anche dei corrispondenti mi sento la Cina non ha proprio nei programmi quello di scatenare una guerra neanche per Taiwan neanche per Taiwan Taiwan le serve di più così com'è Taiwan serve alla Cina più così com'è che in un'altra maniera così com'era Hong Kong Hong Kong gli serviva molto di più così com'era una volta che se l'è presa si è preso un problema in più non è che si è presa una potenza in più e lo sa benissimo lo sanno benissimo tutti i cinesi quindi lì non scatterà una guerra per salvare o per difendere Taiwan scatterà una guerra che sarà definita a livello regionale soltanto per impedire la Cina di estendere il controllo economico e finanziario sono queste le due parti di cui ha paura e hanno paura gli Stati Uniti l'arco dell'instabilità che dal Portogallo da Gibilterra arriva fino allo stretto della Malacca e fino a Taiwan è una costruzione didattica se si vuole per far vedere dove sono i conflitti ma non sono collegati e soprattutto non sono collegati perché i conflitti perché chi gestisce i conflitti non ha il collegamento mentale con la realtà ha solamente uno scopo quello di prevaricare sì chiarissimo molto molto bene generale io la ringrazio per la sua disponibilità e anche per le risposte che ha dato che ritengo e sono molto illuminanti è sempre un piacere ospitarla qui ad Ottolina TV speriamo che venga anche alla festa che sarà all'inizio di luglio dove dove? 4-7 luglio a Pisa forse le ha anticipato un invito va bene lo abbiamo ricordato ai nostri spettatori lo spoilerà 4-7 luglio 4-7 luglio il 4 luglio 4 luglio ringrazio siete furbi siete furbi eh eh sì sì ringrazio ringrazio Gabriele come sempre il mio inseparabile co-conduttore eh chiaramente ringrazio il nostro pubblico e vi invito a se vi piace mettete un like e condividete i nostri contenuti per per aiutarci a diffondere eh quella nostra la nostra informazione e eh seguiteci su YouTube su Telegram su Facebook su tutti i nostri social e anche sul canale in in inglese che aggiorniamo periodicamente Gabriele c'è qualche appuntamento che io non che vuoi aggiungere no sono seguite il canale dove troverete gli appunti i vari appuntamenti perché sì Multipopolare ha tanti incontri nel centro nord soprattutto in questo periodo ma insomma li vedrete sul canale perché in questo momento sono tanti quindi dirli rischiamo di dimenticarne qualcun altro andate a seguiteci sui social che è il miglior modo per essere aggiornati perfetto e rimanete sintonizzati su Ottorina TV che è la TV del 99% a presto